Ciao ragazze, ecco il mio video di aggiornamento sulla mega collaborazione organizzata insieme a Silvia Ferrante e a Graphic Creation Sunshine Roberta. Il video definitivo, che sarà un make-up tutorial dove ci si trucca con solo i tre prodotti, si intitolerà tre prodotti magici per un trucco top e lo pubblicheremo tutte insieme domenica 6 luglio. Vi ricordo che in questo modo raccogliamo la sfida lanciata dalla grande Clio Make-Up di riuscire appunto a truccarsi in maniera completa utilizzando solo tre prodotti. Avete aderito tantissime alla nostra proposta, vi ringraziamo tutte. Vi chiedo un'ultima cortesia, se potete aggiungere ai preferiti il video che vedete in questo momento, più quello di Roberta e quello di Silvia, in modo che si possa spargere ancora un po' la voce su questa collaborazione e se qualche ragazza vuole ancora aggiungersi a noi è la benvenuta. Adesso leggo tutti i canali che hanno aderito al video dove lanciavamo la nostra proposta, video del quale vi lascio il link giù nell'info box, e vi ricordo prima di procedere nel leggere la lista che nel video di domenica giù nell'info box inserirò tutti i link ai canali che partecipano, per cui fate pure affidamento sul mio canale in questo senso. Allora, le ragazze sono innanzitutto Silvia Ferrante e Grafication Sunshine, Poi Miss Jessie Makeup, De Papatti, De Rasha Tatti, Isa Sweetness, Lella J1005, Francie Guiz, Creativity Coe, Raffaella Avon, Elena C9696, Mega Rosa 1978, Mari Iguy, My Blondie 66, Makeup & Dance, Dile Esthetic, Lori Blue 91, Love Animals A e Claudi C. Per cui ragazzi, io vi aspetto tutte quante insieme a me domenica, vi ringrazio ancora e vi mando un bacione. Ciao!